E' importante questa iniziativa di oggi perché si presenta il concorso di idee che è aperto a tutti. Darete il vostro contributo? Noi abbiamo dato già il contributo perché abbiamo voluto questa iniziativa insieme agli altri ordini e alle altre categorie. Ritornando sul discorso Piazza Pitagora, Pitagora come grecità, Olimpiadi, sport, non si fa nulla se non si è insieme. Insieme si riesce a fare molto di quanto si potrebbe pensare da soli. Per questo abbiamo apprezzato molto l'iniziativa del Comune di essere patrocinante di questo bando che non è altro che un concorso di idee semplice e a cui tutti possono partecipare. Nella speranza che ragazzi, giovani, scuole e noi ordini ci diamo da fare per preparare delle proposte concrete a questa... Piazza e idee insomma diventa un punto di riferimento. Sì, un concorso di idee per chiunque vuole dare il contributo a quello che è la città di Crotona. E noi come istituzione siamo cittadini, per cui siamo quelli che viviamo tutti i giorni la piazza. Questo concorso di idee riesce a mettere insieme tutti gli ordini professionali? Sì, assolutamente sì. Non solo gli ordini professionali ma anche tutte le associazioni di categorie. Quindi credo che sia stato proprio uno schieramento che riguarda proprio tutte le forze, chiamiamole che sì, che sono sociali e professionali che ci sono in gioco. È importante poi scegliere il progetto giusto perché Piazza Pitagora possa essere all'attenzione nella giusta maniera. Certo, senza altro diciamo le idee che verranno, che arriveranno da questo concorso penso che possano essere prese come una traccia quantomeno per chi poi dovrà redigere il progetto definitivo. Insomma che non saranno le associazioni, che non saranno gli ordini ma sarà poi un professionista ma che quantomeno abbia questo professionista delle regole che siano state poi dettate dalla consultazione dei reali fruitori della piazza. Piazza Idea mi piace. Sì, è un titolo abbastanza diciamo orecchiabile, sembra quasi una canzone quindi diciamo è un modo di poter essere diciamo abbastanza immediati nella presentazione di una certa funzione, di una certa idea.